Adesso penso che le cose... Ok, io non ho il Vangelo in tasca, però queste cose qua ormai sono palesi nel mondo di chi allena i calci, cioè la biomeccanica del movimento dice questo, che il piede deve andare verso il bersaglio e che devo andare in un certo modo. Cioè in base al calcio devo avere un obiettivo del mio corpo di cosa fa e riuscire a controllarlo. Ok, per cui se non riesco a controllarlo, quello che dice Jeremy è facile. Cioè, cosa devo fare? Non riesco a controllarlo. Devo avere l'obiettivo chiaro e... Cosa fa? Quell'obiettivo chiaro. Sei sotto i riflettori. Farlo? Finché non viene a posto. Ok, posso dirvi io...